Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il rendiconto finanziario 2015 che si chiude con un risparmio di 6,7 milioni. Ma negli ultimi 5 anni i risparmi sono stati ancora maggiori, i costi sono infatti passati da 76 milioni del 2011 agli attuali 51,3. Il documento è stato approvato con 31 sì della maggioranza, più forza Italia e 10 non votanti, esponenti del Movimento 5 Stelle. Il relatore Appiano PD ha spiegato che negli ultimi 5 anni il Consiglio ha tagliato il 62% sulla spesa per affitto dei locali, noleggio di auto, 34% sull'acquisto di beni di servizi, il 31% sui costi del personale e della comunicazione e il 19% sulle spese per trasferimenti, consulenze e convegni. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Giorgio Bertola, ha ricordato come la sua forza politica avrebbe voluto risparmi ancora maggiori, cancellando i vitalizi dei consiglieri in modo retroattivo e viettandone il cumulo. Gli azzurri Gianluca Vignale e Claudia Porchietto hanno ribadito la richiesta che Forza Italia aveva già fatto in commissione di approvare un atto di indirizzo di tutto il Consiglio regionale con l'indicazione di come riallocare i risparmi.